Quarta del convegno, un doppio chilometro, per discreti tre anni, otto in prima, tre in seconda, sono in undici, Bluets, GP Maestro Insalchi e un Ganymede, nennesimo, è il più gettonato, mezzo meccanico in movimento, undici, buoni tre anni, doppio chilometro, quarta del convegno, va via la macchina in velocità, ha avuto problemi Beatrice, si lotta per il comando con a largo Buernhof, che è il più incisivo, come quasi da copione, e va al comando. E così scende all'allievo del Pigna, il dieci a tabellone, in seconda posizione Bomberhalter, con fierro, si completa il lancio nell'ordine del quattordici e nove. I cavalli affrontano il rettilineo di fronte, ordinata fila indiana, con il Pigna che amministra alla leadership, con il suo Noff, e ora però viene via Beautiful Breed con Minopoli, 31 e mezzo di quattrocento, e viene a chiedere strade. E Beautiful prosegue nel suo sforzo, questa figlia di Varen, sta passando gradatamente ai seicento in 46 e 8, e arriva ora subito il numero nove di Bluets. E Bluets, il Ganimeda, affidato a Peppino Maisto, insegue la leader e la supera al completamento e la piegata, anche al mezzo miglio iniziale, in 1-1-2, meno per lui. E così il favorito, ora Menardanza, può riprendere anche un po' fiato, prende la via del largo, Branca Leone Jet. Branca Leone Jet, ci va al completamento del primo chilometro, sul mio in 16 e 3, i cavali che affrontano la piegata, non ci sono variazioni sostanziali, l'andatura è brillante per la categoria, e ci completa anche questa piegata, in 15 e 1 addirittura, e fa selezione Bluets. Cavali sul penultimo rettilineo, con Bluets al comando, su Beautiful Breed, e poi Beware Noff. Ancora non c'è, eccellente 14 e 4, fanno 29 e mezzo questi 400, e i cavali affrontano la curva finale, con Bluets al comando, completamento del miglio, due minuti e un po' di spiccioli, tre cavali sono rimasti, gli altri in affanno. Ah, vai lì al completamento della curva finale, si affaccia la lieve di Minopoli, ma riparte Bluets, mantiene il comando, 1 e mezzo di margine, Bluets leader, ci prova Beautiful, ma se ne va, questo stimato Bluets, viene via bene Branca Leon, e mentre Bluets parla un'altra lingua, si migliora Beautiful, e l'omino è ancora sul traguardo, terzo con Branca Leon. Sul mio cronometro, 2 e 29 e mezzo, con lo stacco della macchina, quindi verrà fuori un 14 e 7, 14 e 8, facciamo i complimenti a Siddi, che ne è l'allevanatore, ma chiaramente a Blue Jeans, che quando improvvisa, improvvisa, signori, chapeau, sempre alla grande, GP Maisto, Bluets, allevamento zenzalino, ennesimo Ganymede, lì nello studio. Grazie. Grazie a tutti